Ciao ragazzi, video super velocissimo, è giusto un'informazione in tante mi state chiedendo di farvi un video sulla mia esperienza della gravidanza ora, le cose da dire sono tantissime ovviamente visto soprattutto che mi trovo alla seconda, quindi posso comunque fare dei paragoni però vorrei che mi faceste delle domande perché veramente, se no verrebbe un video troppo 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 lungo e io sono contro i video che vanno oltre i 15-18 minuti quindi vi chiedo un favore, vi chiedo di lasciarmi qui sotto nei commenti tutte le domande che vi vengono in mente da farmi sulla mia gravidanza e io poi prenderò queste domande e risponderò ad ognuna di loro quindi niente, tutto qua giusto un'informazione di servizio velocissima e niente, ciao!